Andiamo a rifinanziare la legge 77 del 2000 con 12 milioni di euro, con qualche novità, è una legge che finanzia alberghi, quindi stiamo parlando di sopra a 7 posti letto e camere, quindi riguarda i camping, riguarda anche gli stabilimenti banaliari e tutto ciò che viene a fine al turismo per renderlo più sicuro. E' una legge, è un bando che non è a sportello ma è a punteggio, l'assegnazione varia dei punti a seconda, quindi partendo dalla sicurezza sismica, dall'efficientamento energetico, dalla sicurezza e quindi più c'è il punteggio nella struttura e più si ha diritto al finanziamento. Il finanziamento è in de minimis, quindi sono 150 mila euro a fondo perduto per un investimento di 250 mila euro e stiamo facendo anche un discorso col microcredito per vedere di poter dare un'ulteriore mano, ma è presto per potervelo dire. Il bando sarà appena pubblicato sul Bura, sul bollettino ufficiale del General Abruzzo, sarà aperto 4 mesi, gli operatori possono tranquillamente venire in un assessorato per avere specifiche delegitazioni, siamo a disposizione come sempre. E' un servizio in più che diamo a tutti coloro che vogliono investire per migliorare le proprie strutture.